Cari amici, a volte la sincerità e la verità fanno molto male. Così non abbiamo voglia di essere sinceri. Ma se dai che importa, dai avanti, avanti, poi ci pensiamo, gli ricorda qualcosa. A volte invece sentiamo, e questa è la sensazione giusta. A volte cerchiamo di raddrizzare le situazioni con la mente, ma sì, va bene. Tizio e Caio hanno detto che va bene, però nel profondo lo sentiamo che è solo una facciata costruita e non vogliamo guardare dentro. Ma tutta questa facciata, cari amici, lasciamola perdere. È solo carta pesta, non è niente. La verità è ciò che sta nel profondo. Quindi pensate se ora il buon Dio fosse di fronte a voi e vi domandasse. Voi rispondereste, oh sì, sì, caro Dio, quello mi ha detto che andava bene. Anche quella là mi ha detto che andava bene. Eppure quel paragrafo c'era scritto bla bla bla. Lui ascolterà e dirà, sì, ma che c'è dietro la facciata, nel tuo profondo? Qual è la sensazione che hai avuto? Te ne sei reso conto? Lui ci chiede sempre di fare attenzione al sentire. Cari amici, questo è essere sinceri con se stessi. Se dite, l'uomo non c'è nulla nel mio profondo, è ancora più grave, perché avete ignorato questa sensazione così a lungo che non la sentite più. Io, però, credo che ciascuno possa ancora sentirla. A volte facciamo delle cose che sappiamo già in anticipo non essere corrette e che non vanno bene. Capita che compriamo delle cose pur sentendo che non vanno bene per noi e che non ci occorrono. Invece sì, io devo averla, mi spetta, mi serve, me lo merito o frasi simili. Ma poi si scopre che la sensazione era giusta. Infatti poi l'acquisto rimane lì e non si è felici per niente. Questo sarebbe essere onesti con se stessi. Se gli altri credono che dovete fare o che avete bisogno di qualcosa ma dentro sentite no, non mi serve, non lo voglio, cari amici, questo è essere onesti con se stessi. Se non siamo onesti con noi stessi, non possiamo esserlo con gli altri e questo loro lo sentono. Allora non si è autentici. Invece quando siamo onesti con noi stessi veniamo ricompensati perché ci viene mostrata chiaramente la via giusta per noi. Ho scelto questa espressione perché è proprio la strada giusta da percorrere che ci viene mostrata. Ma ciò che va bene per uno non vuol dire che vada bene per un altro. Grazie a Dio. Ciò che è giusto per me, grazie a Dio, non è detto che sia giusto per un altro. Mi è capitato spesso di pensare non è andata bene ma in fondo sapevo di non volerlo nemmeno e invece l'ho fatto lo stesso. Ah, ma non era giusto. C'è chi comprende velocemente e chi comprende dopo, cari amici. A qualcuno basta fare questa esperienza tre volte e un altro la deve fare 15, 20, 30 volte finché a un certo punto della vita dice bene, ora ho capito. Ora resto fedele a me stesso. Chi ha già superato questo punto dice io resto sempre fedele a me stesso non importa cosa dicono gli altri. Ci impegniamo tutti a fare così giusto ma non sempre sappiamo cos'è giusto e quindi non sempre siamo in grado di fare giusto. A volte però vogliamo fare qualcosa e crediamo che sia la cosa giusta e lo vogliamo davvero. A volte però sappiamo benissimo che non è giusto ma io lo voglio allo stesso. Si vuole qualcosa a tutti i costi ma dentro si sente che non lo si vuole davvero. Perciò attenzione, sappiate con precisione cosa volere. Altrimenti fate quello che volete ma non quello che sentite e il risultato sono solo guai e poi diciamo a noi stessi vedi, vedi ciò che era nel profondo era giusto non avrei dovuto farlo. Quindi sapevate benissimo cos'era giusto ma non siete stati fedeli a voi stessi. Poi si fa l'esperienza se avessi ascoltato le mie sensazioni questa esperienza si fa una volta e ci si brucia la si rifà e ci si brucia ancora la si rifà una terza volta perché l'ego è molto grande e pertanto ci si brucia per la terza volta. Ad un certo punto comprendiamo che ogni volta che ci siamo messi contro le nostre sensazioni e abbiamo imposto la nostra volontà il risultato è stato veramente negativo e questo è un processo che si sviluppa per tutta la vita. Noi ne faremo l'esperienza sempre più consapevoli e sempre più spesso faremo attenzione alle sensazioni e così potremmo dire sì, mi sono ascoltato ed è andata bene. Se facciamo sempre così allora siamo già perfetti. Pense ma schon vollkommen. Grazie a tutti! Grazie a tutti.